Ciao e un saluto da Giovanni, sono il direttore del negozio biologico Good Food di Montagnana e con questo video vorrei invitarti a riflettere su una cosa. Oggi sono qui in montagna, l'acqua è pura, l'aria è meravigliosa e l'ambiente è stupendo. Se fai una considerazione sull'acqua di casa tua, molto probabilmente potresti scoprire che non è così buona. Potresti scoprire che neanche comprando l'acqua al supermercato, che sia in pet o che sia in bottiglia, la soluzione sia molto ragionevole, in quanto l'acqua è costosa, l'acqua potrebbe avere anche quella in bottiglia dei conservanti. Ecco perché dura la bellezza di due anni. Dovresti pensare, così come ho fatto io ancora sei anni fa, di installare un impianto di purificazione. Perché farlo? Vorrei spiegartelo nei prossimi video. Dunque inserisci la tua email e il tuo nome qui in basso e ci vediamo dall'altra parte.